Musica È il momento dell'informazione di Unica TV, questa è l'edizione di Sondrio del nostro telegiornale, bentrovati. Tragedia sul lavoro nella notte di ieri alla diga di Sernio, a Milcare Marchetti, operaio addetto alla pulizia dell'invaso, è annegato dopo essere scivolato in acqua mentre lavorava sugli argini del bacino. In arrivo un milione di euro ai comuni di Bormio e Valfurva, si tratta di contributi previsti dal Fondo Comuni Confinanti di Regione Lombardia, soldi in provincia di Sondrio e a Brescia. Controlli intensificati da parte delle forze dell'ordine nella prima metà di dicembre su diversi comuni di Valtellina e Valchiavenna. Più sicurezza è un primo modello di intervento in vista delle Olimpiadi. E adesso vediamo insieme il primo servizio. Tragedia sul lavoro alla diga di Sernio, a Milcare Marchetti, classe 1969 di Tirano, ha perso la vita dopo essere scivolato accidentalmente nella diga. A rendere nota la notizia è stata questa mattina A2A, proprietaria dell'opera di derivazione Traversa di Sernio. A Milcare Marchetti, comunica la società, dipendente di A2A in Valtellina, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. Il gruppo esprime profondo cordoglio per la perdita del collega e si unisce al dolore dei familiari. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le dinamiche dell'accaduto. A2A si è immediatamente resa disponibile per fornire tutto il supporto necessario all'autorità giudiziaria. Pochi dubbi sulla dinamica accertata dai carabinieri intervenuti nella serata di venerdì sulla base della segnalazione della presunta scomparsa dell'operaio. Ad allarmare colleghi e società è stato il fatto che a Milcare Marchetti non aveva timbrato il cartellino a fine turno. Nonostante i suoi effetti personali fossero ancora presenti, di lui non c'era traccia. I militari dell'arma hanno quindi visionato le immagini della videosorveglianza ricostruendo così l'accaduto. Il video mostra infatti l'uomo impegnato con dei macchinari nella pulizia degli argini della diga. Proprio durante queste manovre a Milcare Marchetti ha perso l'equilibrio cadendo in acqua senza riuscire a riemergere. Per il recupero della salma dal bacino idrico sono intervenuti nella notte i vigili del fuoco sommozzatori da Milano. Nessun dubbio sul fatto che si tratti di un incidente sul lavoro. Le indagini sono in corso da parte dei carabinieri e dell'ATS della Montagna per accertare eventuali responsabilità. Spazio ancora alla cronaca. Aveva in casa una rivoltella detenuta illegalmente e 800 grammi di marijuana. Il 51enne nei confronti del quale i carabinieri stavano dando esecuzione all'ordine di carcerazione per condanne per un totale di 5 anni e 7 mesi di reclusione per i reati di incendio, maltrattamenti in famiglia, abbandono di persone minori, danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti commessi dal 2014 in Aprica e a Berbenno in Valtellina. I militari della stazione di Berbenno e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Sondrio durante la perquisizione della casa hanno trovato l'arma, 800 grammi di marijuana, attrezzature per la coltivazione della cannabis e 5.000 euro. L'uomo si trova ora in carcere a Sondrio a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ricorre oggi la giornata contro la violenza sulle donne e numerose sono le iniziative attuate o in programma in tutta la valle. A Sondrio la rete antiviolenza chiude con oggi l'attività dedicata alle scuole superiori dal titolo Anche tu meriti. Sempre in città la nuova Sondrio Calcio ha voluto dedicare alla campagna di sensibilizzazione la posa di un seggiolino rosso sugli spalti della Castellina. In provincia il comune di Tirano ha esposto un drappo rosso come segno di partecipazione. Le caserme dei Carabinieri di Tirano e Livigno sono state illuminate di arancione in adesione alla campagna internazionale Orange the World. A Civo nel pomeriggio è stata inaugurata una panchina rossa realizzata da bambini e ragazzi delle scuole. A Morbegno lunedì 27 novembre gli studenti del Saraceno Romegialli metteranno in scena l'auditorium di Sant'Antonio lo spettacolo teatrale Io non ho paura in mattinata per le scuole e alle 20.45 per tutta la cittadinanza. Proseguiamo adesso con i prossimi servizi del telegiornale. Un milione di euro alla provincia di Sondrio dal comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti che ha approvato il trasferimento di risorse pari a 500 mila euro annue per ogni comune confinante per l'annualità 2023. A darle notizie a Massimo Sertori, assessore regionale a enti locali e rapporti con la Confederazione Elvetica per Regione Lombardia, spiega Sertori, sono state approvate complessivamente 17 proposte su 18 presentate di cui 15 per gli 11 comuni confinanti della provincia di Brescia per un totale di 5.500.000 euro di finanziamento e due proposte per altrettanti comuni confinanti della provincia di Sondrio per un totale di un milione di finanziamento. Si tratta in questo caso di Bormio e Valfurva. Sono fondi utili per l'attuazione di interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei territori, continuo a Sertori, anche attraverso l'organizzazione e il potenziamento dei servizi volti a contrastarne lo spopolamento. Gli interventi riguardano il miglioramento dell'accessibilità e delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie, dei collegamenti ciclopedonali, la realizzazione o il miglioramento di infrastrutture sportive e il completamento di progettualità già finanziate. Incremento dei servizi di controllo del territorio da parte delle forze di polizia in diversi comuni di Valtellina e Val Chiavenna nella prima metà di dicembre. È stato deciso nella riunione di coordinamento tenutasi in prefettura, presieduta dal prefetto Roberto Bolognesi con la partecipazione del questore, dei comandanti provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza e dei referenti dei comuni Capofila, Sondrio e Chiavenna. In particolare i controlli saranno intensificati in queste due città e a Chiuro, Mese, Montagna in Valtellina, Piuro, Ponte in Valtellina, San Giacomo Filippo, Spriana, Torre di Santa Maria e nell'unione della Val Malenco. Durante le attività saranno anche verificate le modalità di collegamento interforze nella zona, così da delineare un primo modello di intervento utile anche nel periodo in cui la provincia di Sondrio ospiterà le Olimpia di Milano-Cortina 2026. L'iniziativa, specificano dalla prefettura, consentirà di raccordare e favorire la sinergia tra l'azione delle polizie locali, che per i fine settimana indicati potranno avvalersi di fondi specifici stanziati da Regione Lombardia, con le operazioni di controllo svolte nelle 24 ore dalle forze dell'ordine in modo da aumentare l'impatto dei servizi di sicurezza pubblica. Appaltati i lavori per il miglioramento della viabilità comunale secondaria del versante retico a Tirano, l'amministrazione comunale ha impiegato parte dei fondi previsti nel capitolo opere stradali per questi interventi. Le opere di manutenzione straordinaria riguardano in particolare la sistemazione viabilistica sul versante retico nella località di Baruffini, Roncaiola e Pracampo. L'importo del progetto appaltato ammonta complessivamente a 220.000 euro. Proseguiamo adesso con i servizi. Un giardino rinnovato e un'aula multidisciplinare in legno sono i progetti che attendono la Eco School di Triangia. In occasione della giornata mondiale degli alberi, i bambini della scuola primaria della frazione, con le loro insegnanti e la dirigente dell'Istituto Comprensivo Paesi Retici, Maria Rita Carmenini, hanno accolto gli assessori ai servizi sociali e alle frazioni, Maurizio Piasini, alle politiche giovanili e ai gemellaggi e alle pari opportunità, Raffaella Volpatti. Per le piantumazioni nel giardino della scuola e nel parco giochi, sono intervenuti i carabinieri forestali di Sondrio. La giornata degli alberi è stata l'occasione per presentare i progetti dell'amministrazione per questa scuola, ospitata in un edificio datato 1961 e circondata da uno spirito di comunità che l'anno scorso ha portato gli stessi genitori degli alunni ad armarsi di pennelli per ridipingere le aule. Oltre alla riqualificazione del giardino, verrà realizzata un'aula multidisciplinare di una trentina di metri quadrati, un prefabbricato in legno, per lo svolgimento di laboratori e di attività musicali. Sappiamo che servono spazi e che il giardino deve essere riqualificato, ha detto l'assessore Piasini. Questa scuola, per la didattica che propone e per il suo inserimento nel contesto della frazione, rappresenta un modello. Realizzeremo questi progetti per garantire gli spazi e gli strumenti per il proseguimento dell'attività della scuola primaria e per riaprire la scuola dell'infanzia. La Eco School piace sia ai bambini che ai genitori e vogliamo che prosegua la sua attività negli anni a venire. Lo scorso anno è stata la sfida lunga che ha infiammato il giro nei bini di promozione per conquistare la vetta e ora Nuova Sondra e Cellasco tornano ad affrontarsi ma in eccellenza. Domenica alle 14.30 le due formazioni saranno di scena alla Castellina. C'è qualche differenza però, la stagione passata è finita con i valtellinesi primi e comaschi secondi dopo una stagione combattuta fino all'ultima partita. Ora invece i biancazzurri comandano il girone con 30 punti, due lunghezze avanti al mapello mentre l'Arcellasco si trova nei bassi fondi a quota 12 e ha totalizzato 7 sconfitte su 13 partite. Entrambe arrivano da una vittoria, la Nuova Sondrio 3-1 in trasferta sulla Visnova Giussano, gli erbesi 1-0 in casa con il Lemine. Una curiosità, lo scorso anno finì con una vittoria a Casalinga per parte, sempre per 2-1. Mister Fabio Fraschetti non avrà a disposizione Viviani, Mulette e Cocus mentre Negrini e Pietrantonio cercheranno il recupero. La gara sarà tutt'altro che semplice ma l'obiettivo dei sondresi è quello di provare ad allungare in classifica per mettere al sicuro la vetta. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, appuntamento alla prossima. A tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi.